Ah, a proposito, la sai l'ultima su Venezia? Preferirei non saperla, ribatto cercando di evitare di cadere nel vortice dei malumori veneziani. Devo dirtela. Ci sono fenomeni che propongono di mettere dei tornelli per entrare in città. Sì, proprio dei tornelli stile entrata in seggiovia in cui al posto dello schipass si passa strisciando la carta di credito. Insomma, diventiamo Disneyland. Dicono che naturalmente, bontà loro, i residenti e i veneti saranno esentati, come se questo bastasse a giustificare la volgarità culturale di questa proposta. Ma ti immagini invitare degli amici di Bologna o di Udine a cena e dover spiegare i tornelli che non vengono per visitare la città? E se uno ha un'amorosa da fuori regione e se ne ha più di una, cosa fa? Manda una lista con nome e foto segnaletica ai vigilanti dei tornelli chiedendo l'esenzione per le amanti? Non parliamo se poi una tipa che hai conosciuto a Milano, presa da un raptus, viene a Venezia per farti una sorpresa. Prima dovrà mandare una comunicazione ufficiale spiegando che deve entrare in città perché ha una cotta per te e non per Venezia. Arrabbiato ma speranzoso ribatto, allucinante, siamo alla barbarie, ma sono certo che verrà il giorno in cui questi personaggi, espressi per lo più da chi abita fuori città, dovranno andarsene con la coda tra le gambe, sepolti dalla loro inadeguatezza, sconfitti dalla millenaria anima di Venezia.